Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti! Siamo pronti per iniziare! Buonasera ragazzi, mi sentite bene? L'audio è buono? Sì o no? Scrivete nei commenti! Oggi faremo una lezione pratica di livello elementare, ok? Livello elementare, faremo una lezione pratica, faremo una lezione che secondo me è una delle lezioni più importanti per chi sta iniziando. Chi sta iniziando deve per forza fare molta attenzione a questa lezione. Innanzitutto vi faccio una domanda. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto tranquillo? Ok, io sto molto bene e sono anche molto felice. Ma prima di andare avanti voglio farvi una domanda. Qual è la differenza tra come stai e come state? Come stai? Come state? Cosa cambia? Cosa cambia? Ottimo! Allora, come stai? Come stai? È quando sto parlando di? Di te, giusto? Sto parlando con te. Tu. Come stai? Tu. Come state? Voi. Come state? Voi. Un brevissimo ripasso del verbo stare che è un verbo utilissimo. È un verbo di base. Ma se fosse, per esempio, come i tuoi genitori? Se io volessi chiedervi come stare i tuoi genitori, quale sarebbe la forma corretta qua? Come stanno? Come stanno? Ok, esattamente. Come stanno i tuoi genitori? Come stanno i tuoi genitori? Perfetto. Ma se io dico, per esempio, come il lavoro, quale sarebbe? Usando sempre il verbo stare. Il lavoro. Come? Il lavoro. Mi raccomando, mi raccomando. È importante sempre praticare le frasi che vediamo qua. Quindi ripetete, vai. Come stai? Come state? Come stanno i tuoi? Come sta il lavoro? Come sta il lavoro? Come sta il lavoro? Però, però, devo dirvi una cosa. Posso dire come sta il lavoro, ma non è tanto, non è tanto corretto. Corretto, perché c'è un modo migliore di chiedere, di fare questa domanda. Come va il lavoro? Come va il lavoro? Come va la vita? Come vanno le lezioni? Come vanno le lezioni sulla piattaforma? Quindi è un modo di chiedere. E allora, come vanno le cose? Come vanno le cose? Ok, quindi questa là possiamo togliere. Allora, quando devo usare c'è o ci sono? C'è e ci sono parlano di esistenza. Questo, sì, è il verbo che noi diciamo aver, esistir. Ok? No portugues, a gente dice, c'è un carro na garagem. Ma il corretto seria dire, c'è un carro na garagem. C'è un carro na garagem. No italiano, ci sono verbos differentii. Quindi, io non posso dire, simplesmente, ha una macchina. Perché ha non è esistenza. Ha è posse. Do verbo avere. Io ho una riunione domani. Io ho una riunione domani. Você possui una famiglia grande. Marco ha una macchina. Io ho, io ho, io ho, io ho, io ho, io ho. Possuire. C'è e ci sono? Quando io voglio dire che existe qualcosa. Ok? Quindi, se a gente pegar questa frase qui, sulla piattaforma ci sono molte lezioni. Sulla piattaforma. Na piattaforma. Dentro da piattaforma. zione. E, se a gente far moretoso in portoguese. Sulla piattaforma. Possui Muitas aulas, o na plataforma Existem muitas aulas Ok, na plataforma Dentro da plataforma Existem Ok, exatamente La stessa cosa che è in portoguese Che è, scusate, che è in italiano Ok, quindi sulla Piattaforma Existono Ok, non troquem O verbo avere por ter Perché vocês vão fazer confusão Perché o ter a gente usa no português Como existe, né? Tenho um carro na frente de casa, existe um carro Non é tem, porque quem é que tem O carro? Não, ninguém tem Estou dizendo que tem um carro ali parado Existe um carro Ah, c'è una macchina Non há uma macchina Ok, ok Fate questa Fate questa che tra poco rispondo Questa bella domanda Ok, ragazzi, importante Potete usare il presente Ok Usate il presente Ok Perfetto Ragazzi, ó Vamos voltar Pra explicação Pensem o seguinte Amanhã Não possui aula Amanhã Não existe Aula Não há aula, né? Qual è a forma correta? Um Ou dois Pensate un po' Uno O due Perfeito Estou dizendo que amanhã Não há aula Então eu não posso dizer Não posso dizer Domani Non há lezione Porque a É posse Eu estaria dizendo que amanhã Imagina Imagina uma pessoa O amanhã Ter Tem uma aula No bolso dele Uma aula Não é isso Eu estou dizendo que no dia de amanhã Não existe uma aula Não há aula Ó Existência Aqui, ó Não existe Non c'è Domani Não c'è Lezione Então eu não posso dizer Domani Não há lezione Porque amanhã Não é uma pessoa Pra ter algo Pra possuir algo Domani não c'è Então pensi nisso É possi Ou é existência Facciamo un esercizio Di ascolto Questo esercizio Funziona così Io ti dirò Una frase Tu la devi Ascoltare E Scriverla Nei commenti Vai Frase número 1 Ci sono molte persone Nel barco Oggi Ci sono molte persone Nel barco Oggi Ci sono molte persone Nel barco Oggi Ok Bravi Bravi Ci sono Molte persone Nel barco Oggi Correttissimo Facciamo un'altra Frase numero 2 C'è una grande differenza Tra i due prodotti C'è una grande differenza Tra i due prodotti C'è una grande differenza Tra i due prodotti Mi piace assai Questo esercizio Mi piace assai Mi piace tanto Mi piace tanto Mi piace assai C'è una grande C'è una grande differenza Tra i due prodotti C'è una grande differenza C'è una grande differenza Tra i due prodotti Ok Perfetto Ok Vai Un'altra frase C'è un'auto Parcheggiata davanti alla mia casa C'è un'auto Per esempio C'è un'auto C'è un'auto C'è un'auto C'è un'auto C'è un'auto Non c'è un'auto Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non è nada Non c'è niente Ci sei Ci sei Ci sei Ci sei E quando io Per esempio Mando un messaggio A un amico Voglio parlare Per esempio Con Con Diane No Voglio mandare un messaggio A Diane Io scrivo Hey Diane Ci sei Ci sei Você tai Ci sei Você tai Io ci sono Io ci sono Io sto aquí Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Stamos aquí Stamos prontos Ci siamo quasi Ci siamo quasi Stamos quasi Ci siamo quasi Ci siamo quasi C'è qualcosa Che non va C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Ci sei domani Ci sei domani E quando você che Perguntasse Ci sei Che c'è da dire Che c'è da dire Che c'è da dire Che c'è da dire Cosa posso dirti Cosa posso dirti Che posso Che chi apre Sergito Quindi alcune espressioni Utili con C'è Un'altra espressione Non c'è nulla Da dire Non c'è nulla Da fare Non ti Che possa Sergito Ragazzi Grazie di cuore Un saluto Arrivederci Un saluto Un saluto Ce Grazie a tutti.